Nel Quattrocento si cominciano a vedere le cose in maniera diversa da come le guardavano gli antichi e questo modo diventa poi il modo normale di vedere le cose. Le cose si cominciano a guardare non più come sono, ma in funzione della distanza metrica degli oggetti rispetto al soggetto, secondo un punto di vista spaziale, quel punto di vista che poi organizza la prospettiva. Quando rappresentiamo il mondo in questo modo, se noi dobbiamo disegnare un albero che ci avvicino una volta che abbiamo tracciato le linee prospettiche, lo facciamo più grande in modo tale da vedere le cose che sono lontane più piccole, ma in realtà non sono così. Quello che è distante da noi è ugualmente grande come quello che ci avvicino, ma noi lo rappresentiamo più piccolo e questo cita l'idea della distanza e questo modo di vedere il mondo, prospettico, è un modo che cambia l'intera visione. È in questo momento che l'occhio comincia a dire qualcosa che per esempio il tatto o gli altri sensi non comprendono, perché è contrario di quello che gli occhi registrano. Per esempio, se si fanno scorrere lungo i bordi paralleli di un tavolo le dita e poi si immagina l'infinita lunghezza del tavolo stesso, percepiamo che la distanza tra le nostre dita che scorrono sui bordi del tavolo non cambia mai. Una cosa è questa percezione tattile, ma di fronte a qualsiasi immagine prospettica invece siamo portati ad ammettere che due linee parallele, se prolungate all'infinito, invece si incontrano. Allora avviene una dissociazione per quanto riguarda i sensi che percepiscono il mondo che ci circonda, che diventa un modo di guardare, di vedere la realtà e quindi di costruirsi l'immagine della realtà. Avviene cioè che l'occhio vede cose che non sono percepite nello stesso modo dagli altri sensi. Il monogramma di Leon Battista Alberti, che vedete rappresentato, ci dice qualcosa. Ci mostra un occhio con le ali, insomma un occhio che liberato dal resto del corpo, dagli altri sensi, vola, va per conto suo e ha un suo sguardo diverso rispetto al mondo. E su questo monogramma sono incise le parole quid tum. E allora adesso che si fa? Cosa succede? Che ne sarà di un mondo si fatto, fatto così?